ben trovati nella seconda settimana di appuntamenti qui a volanti agli appuntamenti con la cultura oggi è il 15 febbraio sono le ore 15 e come ogni lunedì il professor gregory alleggi ci intrattiene sulla prima prima mini conferenza della settimana il professor gregory alleggi che ricordo è membro del comitato scientifico di volandia e curatore della collezione aeronautica del nostro museo oltre che professore insigne alla luis insegnante al all'accademia aeronautica militare e i titoli veramente del professor alleggi si possono sprecare perché è conosciutissimo non solo in italia come esperto aeronautico la conferenza che terrà oggi sarà la macchi prima della macchi dalle carrozzerie dalle carrozzi agli aerei passando per le auto non posso che passare la parola al professore alleggi ricordando a tutti ancora una volta di spegnere cortesemente i microfoni perché interferiscono a tutto a tutto tutte le persone in ascolto e disturbano alquanto alla fine della mezz'ora di intrattenimento si potranno fare le domande per il scritto meglio che la signora durione leggerà direttamente al signora al professore alleggi il professore alleggi risponderà a quelle che farà in tempo a rispondere verbalmente e altrimenti a qualcuno ritardatario potrà rispondere anche in tempo in via remota prego accomodatevi bene allora buongiorno a tutti grazie di essere qui in questa volandia virtuale qualcuno anche nella volandia reale seduto lì in sala conferenze altri che ovviamente non li posso vedere ma vedo i nomi invece di chi è collegato da remoto saluto gli amici e comunque tutti quelli che sono qui collegati sono amici del volo dell'aviazione e quindi sono diciamo nostri amici bene cosa raccontiamo oggi la macchi prima della macchi era una delle slide uno dei momenti della chiacchierata la settimana scorsa quando abbiamo parlato della vera storia della rio hd1 cosa qui è un po tutta la storia perché noi abbiamo sempre tutti saputo che il primo maggio 1913 nasce la macchi nasce in realtà la newport macchi ma diciamo la prima azienda di costruzioni aeronautiche su basi industriali in italia però come spesso accade le aziende non nascono dal nulla e quindi c'è tutto un prima anche perché questa data del primo maggio è la data dell'atto notarile ma come sappiamo tutti alcuno compra casa già ha fatto il compromesso già si è messo d'accordo con la banca per il mutuo eccetera quindi la data del primo maggio è diciamo al tempo stesso un punto di partenza un punto d'arrivo io vorrei raccontare come si arriva a questo di punto di partenza e di arrivo e poi vedremo anche cosa succede dopo adesso metto la condizione schermo così possiamo vedere qualche slide e naturalmente come al solito adesso non la fa vedere dunque vediamo un po per sapere perché ogni volta io faccio le prove lo schermo c'è e quando invece poi arrivo per farla per davvero non c'è dunque vediamo il powerpoint modalità presentazione voi naturalmente non lo vedete in questo momento ancora no gregory vedi se trovi condividere lo schermo vai no no condividere lo schermo lo trovo ma quando faccio condividere lo schermo che sta qua sotto non mi va a prendere non mi va non mi fa ecco il powerpoint adesso vabbè lo sa lui adesso lo dovreste vedere in modalità presentazione giusto perfetto la macchi prima della macchi allora quindi sono quattro fasi dal pesce alle carrozze dalle carrozze agli aerei la nascita della newport macchi e poi la carrozzeria dopo gli aerei perché quella che tra l'altro vedo che si è collegato abbiamo un ospite molto prestigioso il generale di squadra aerea preziosa ex capo di stato maggiore dell'aeronautica e anche grande appassionato di aeronautica quindi siamo onorati sia personalmente che come volandia di averlo con noi saluto tutti e un abbraccio a te grazie comandante e poi la carrozzeria dopo gli aerei quello che raccontava prima il nostro vicepresidente alzimonti che si ricordava di andare a ritirare col padre questi autobus perché vedremo perché ecco quindi lì abbiamo calcinate del pesce perché è proprio lì che nasce questa storia macchi non a casa abbiamo scelto una foto aeronautica con il campo di volo con il campo di volo in primo piano però l'inizio è proprio quello il trasporto del pesce da calcinate a barese forse fino a milano parliamo della metà dell'ottocento della prima metà dell'ottocento le fonti storiche sono incerte però il capostipite è questo agostino macchi pescatore che ha un problema pratico di portare il suo prodotto il suo pescato ai mercati come vedete come avveniva allora ha parecchi figli questa qui è l'inizio da lì nasce il trasporto di pesce da lì nasce una linea di carrozze quindi non più solo per sé ma vendendo il servizio di trasporto dopodiché da quello nasce la riparazione delle carrozze che con le strade dell'epoca richiedevano molta manutenzione e poi da lì si passerà alla produzione di carrozze quindi qui stiamo parlando di 80 anni 75 80 anni prima della nascita della Newport Macchi prima degli aeroplani vedete tutti quei punti interrogativi sono un po' l'indicazione della difficoltà di fare storia 200 anni indietro il fatto che questi dati non vengono registrati qui parliamo di attività fatte di fatto sono società di persone quando sono società non ci sono atti notarili è piuttosto difficile ricostruire questo vediamo anche qualche nome che si ripeterà dopo nella sala in particolare vediamo Giulio Macchi le carrozze intorno al 1870 quindi dopo circa 30 anni si passa a costruire carrozze sono costruite in prati comuni ed è una produzione di qualità se pensiamo che all'epoca nelle fiere nelle esposizioni che erano tanta parte del modello diciamo economico commerciale dell'epoca vincono anche una medaglia d'oro quindi prodotto in qualità ma parliamo di aziende piccole una quarantina di operai c'è però già quella costruzione di know-how industriale perché i materiali vanno importati da altri paesi perché va creata una struttura commerciale purtroppo qualche anno fa è andato disperso l'archivio della fratelli Macchi che è quello della carrozzeria queste foto che vedete le trovate su internet perché sono finite su ebay io ho scaricato salvato quello che potevo ma c'era evidentemente già una certa consapevolezza vedete anche le carrozze come gli aeroplani avevano un numero non una matricola un'unitelaio però un numero quindi era un prodotto mediamente importante ed era anche un prodotto in qualche modo con una identità non industriale da lì passiamo alla costruzione di questa strada avete forse vista già la settimana scorsa gli omnibus cioè i tram trenati a cavalli e anche lì vediamo che il mercato si è un po' allargato perché li vendono a Genova li esportano in Spagna in America eccetera poi ci si sposta verso la stazione ferroviaria di Varese si passa a trame elettrici quindi stiamo facendo un passo avanti rispetto al cavallo e si incominciano a fornire carrozzerie ricordiamo qui è tutta lavorazione del legno a altre aziende più grandi come Turinelli e Fiat finché il fondatore non muore nel 1897 quindi questa è diciamo la prima fase della carrozzeria macchina fase nata direttamente dall'attività di trasporto e che cresce andando a coprire l'attività industriale a questo punto servono capitali si passa da una società di persone a una società di capitale la società anonima fratelli macchi 19 giugno 1905 vedete quella foto lì è bellina quella dottorina che era un modello diciamo un po più sportivo modello più leggero di carrozza quello quando nacque volandia ormai una quindicina di anni fa era in vendita tentammo di comprarla non ci siamo riusciti però lì sulla borchia delle ruote non si legge bene ma c'è scritto proprio fratelli macchi varese quindi abbiamo l'inizio anche di un marchio commerciale cosa fa la società come vedete la famiglia è proprietaria di poco più di un quarto dell'azienda gli azionisti sono una cinquantina quindi c'è un grosso passo anche culturale di passare dall'impresa di famiglia anche il generale per loro e compagni che ci segue sempre saluto amico giovanni benvenuto dicevo quindi aprire il capitale questo è anche oggi non sembra noi ci spesso come dire non ce ne rendiamo conto ma è uno dei problemi di questo paese in cui imprenditori tecnici molto abili anche geniali fanno delle attività e portano avanti come famiglia poi non riescono ad aprirsi a passare la città di capitali e fare un passo indietro qui i macchi vedete che già hanno ormai una settantina di anni di attività sulle spalle fanno questo passo coraggioso di aprire il capitale della loro azienda ad altri e diciamo vediamo anche com'è cresciuta la società perché gli rappresentanti della famiglia sono industriali quindi imprenditori ma vede enrico è docente era il prese del collegio poi credo che ci sia una strada in cui lo vediamo c'è giulio macchi che qui ha poche quote appena 40 azioni su 8 mila ma è il personaggio fondamentale quello che crede nell'aeronautica ed è quello che la porterà avanti e poi sono due altri fratelli con piccole quote come vedete il come dire la società però i ruoli importanti sono tutti della famiglia macchi tranne il presidente molina quello che è interessante la società è ben gestita vediamo che dal 1906 al 1914 è sempre inutile conosce qualche piccola attenzione non scioper eccetera questi dati ce li riporta pietro macchione che ha scritto un interessante libro ormai una trentina di anni fa sulla storia macchi e l'altra cosa interessante che vedete c'è scritto sotto carlo redaelli che è un grosso azionista perché ha duecentoventi azioni cede il terreno a masnago sotto i campigli lungo la strada varese laveno è il posto dove tutti noi ricordiamo la macchia quella che poi diventa via san vito silvestro purtroppo questo complesso che vediamo qui nella foto è oggi in via di demolizione con grande dispiacere degli appassionati però è un salto di qualità importante disporre di uno spazio ampio quella freccia dovrebbe essere l'ingresso originale della carrozzeria quindi è un salto importante questo però le carrozze vanno in crisi e l'azienda deve per la prima volta incominciare a diversificare ovviamente in quegli anni dalla trazione animale si passa al motore a combustione interna all'automobile e qui con un modello che poi replicheranno per gli aeroplani i macchi cosa fanno pensano di andare da qualcuno che già è proprietario già è padrone di questa tecnologia e quindi vanno dalla walsley un'azienda inglese fondano una società che si chiama officine legnanesi automobili walsi walsi walsley italiana come vedete c'è dentro la wals e ci sono dentro i fratelli macchie c'entra banca di legnano in realtà questo non funziona durerà pochi anni la produzione ci sono rarissime macchie hanno fatto una certa fatica ma una wals del 1907 almeno esiste marciante si vede ancora qualche raduno ma incominciamo a vedere questi come dire queste intersezioni fra i diversi business perché il giuseppe clerici che è uno dei dirigenti della wals poi ce lo ritroviamo nel cda della fratelli macchi quindi sullo sfondo quello che le carte aziendali non ci dicono è anche una strategia di rapporti di relazioni che è fondamentale per qualsiasi azienda per crescere un'altra cosa che c'è sopra è quella del ruotificio vedete anche qui come sono le ruote erano dei prodotti mediamente complessi già all'epoca o forse se vogliamo più complessi per esempio del telaio tra io si vede bene nella foto in bianco e nero sopra sono praticamente due lungheroni di legno collegati a scaletta uno schema piuttosto classico quindi è facile da fare le ruote che sopportano altri sforzi che sulle strade dell'epoca spesso fanno una vita dura che sono tonde eccetera richiede un po di tecnologia tant'è che comprano i macchinari negli stati uniti installano un apparato motore importante 150 cavalli per l'epoca sono molti si rivolgono a anche qui a un tecnico straniero per metterla in piedi e questo sforzo viene premiato con una importante commessa di ruote dall'esercito fondamentalmente per gli affusti delle artiglierie quindi e c'è un primissimo affacciamento sul quale purtroppo abbiamo pochi dati ma nel 1911 hanno dei rapporti con l'ingegnere Rambaldo Iacchia che era di guarda caso parlavamo prima di baracca di luogo di romagna quindi dello stesso posto che del primo incrocio tra il nome macchi e l'aviazione non ne succede niente ma sono dei contatti ecco qua i protagonisti dicevamo giulio macchi l'ingegnere giulio macchi è quello che porta la carrozzeria nell'aviazione nasce nel 1865 collaboro al piano regolatore di barese e azionista della società grandi alberghi che guarda caso è albergo che tutti ricordiamo guardando dalla macchi che dominava lo stabilimento dove la l'ermacchia ha sempre ospitato per esempio le delegazioni straniere eccetera quindi c'è quasi un rapporto non solo di sguardo che i due si guardano ma quasi funzionale no ed è presente in altre iniziative industriali eh di barese come il credito varesino come le società imprese elettriche eccetera quindi notiamo come in una sola generazione gli ex già la famiglia di pescatori poi gestori di carrozze si siano inseriti pienamente nel tessuto economico l'altro personaggio dimenticato carlo felice buzio è invece uno che viene dall'automobilismo lavora prima la diatto corre con come bayar progetta un motore che poi vedremo e che è un motore importante perché nel 1909 viene montato sull'aereo eh Wright con il quale eh Calderara vola a Brescia noi sappiamo che il motore originale Wright è al museo storico dell'aeronautica militare viene periodicamente messo in moto da Leonardo Sordi però le cronache ci dicono che durante le gare a Brescia fu montato questo motore Rebus dove Rebus sta per Restelli, Buzio e C costruisce un aeroplano c'è il punto interrogativo perché come tutti gli aeroplani pioneristici ne sappiamo veramente poco eh poi le cose vanno male perché lo ritroviamo in proveniente da imprenditore da tecnica eccetera a fare l'autista per Marinetti ora è vero che Marinetti è Marinetti è una figura di spicco del mondo culturale è vero che all'epoca i signori non guidavano hanno sempre l'autista eh però fatto fare l'autista non è eh chiaramente lo stesso che eh essere titolare di un'attività eh industriale per quanto piccola eh tenta l'assunzione presso il battaglione aviatori cerca di partire come meccanico con la flottiglia dei aviatori volontari in Libia io dico spesso che in questa fase pioneristica i meccanici sono gli unici che guadagnano con l'aviazione i piloti pagano l'istruzione pagano per volare pagano per comprare gli aeroplani che spesso rompono gli imprenditori investono e fino alla prima guerra mondiale ci rimettono solo nessuno guadagna alla fine quelli che eh guadagnano sono i meccanici che vengono assunti per lavorare però tutto questo curriculum un po' come dire ad alti e bassi eccetera ne fa un esperto pratico un conoscitore empirico della realtà aeronautica e questo sarà molto importante per darvi un'idea questo è un grafico di uso spesso e hanno fatto molta fatica a svilupparlo lì vedete un aeroplano anche lì con molte connessioni macchi perché l'ingegnere Tonini sarà il direttore tecnico della macchi durante la prima guerra mondiale e il motore qui è il Rebus quindi Restelli Buzio e Buzio abbiamo appena detto chi è per capire 1912 questo grafico ci dice che in Italia furono progettati e costruiti una quindicina di aeroplani 13 volarono due fecero dei saltelli eccetera quindi notate in questo periodo al 1909 cioè quando Wright viene a Centocelle e fa quei famosi voli che non sono i primi in Italia ma sono sicuramente i più famosi al 1914 vengono costruiti un centinaio di aeroplani e nemmeno due terzi volano quindi era molto aleatorio costruire aeroplani Gianni Caproni è forse l'unico in Italia che sistematicamente prova sviluppa e costruisce diciamo per tentativi un know-how proprio gli altri spesso abbandonano spesso non vanno da nessuna parte eccetera questo perché è importante qui adesso puoi anche vedere non so perché mi ha fatto i colori rossi la slide sopra vedete il motore proprio diciamo Caproni prima quelle sul K6 al museo a Trento ed è il motore Rebus quindi Restelli Buzio Buzio è l'uomo che abbiamo visto prima qui ci dice dove si volava e non sorprende vedere che l'attività è principalmente fra Torino Milano i due centri industriali Cameri che è funzionalmente aggregata a Milano e Malpensa che è dove oggi è Volandia dove se facciamo una somma siamo a 37 46 quasi metà degli aeroplani quindi questa zona fra tutto triangolo Torino Milano Varese se vogliamo è il cuore dello sviluppo aeronautico italiano ecco qui poi succede cosa uno dei problemi in quegli anni è che manca il mercato manca la domanda cioè ci sono le persone appassionate le persone che vogliono costruire gli aeroplani eccetera ma non c'è chi li vuole comprare il vero inizio della domanda è quando viene riordinato il servizio aeronautico dell'esercito quindi i militari che hanno impiegato gli aeroplani in Libia eccetera adesso hanno le idee più chiare e incominciano a dire abbiamo bisogno di questo quindi esce quella legge il piano è di creare 18 squadriglie su 150 aeroplani di tipi esistenti cosa vuol dire tipi esistenti non vogliamo prenderci rischi non vogliamo sviluppare vogliamo andare sul sicuro si discute se acquistare da industria privata quello li porterà la Newport c'è una prima riunione del battaglione aviatori che è veramente il papà dell'aeronautica militare perché pur avendo pure stato solo un reparto di impiego un battaglione conteneva dentro tutte le funzioni all'addestramento l'impiego spesso preparava le specifiche dei mezzi eccetera quindi è una piccola aeronautica e viene fissato per il primo dicembre la scadenza delle offerte da parte degli industriali parte poi separatamente una seconda gara per fornire 28 aeroplani Bristol quindi qui i militari hanno già individuato il tipo e vogliono chi gli ricostruisca al prezzo migliore eccetera da consegnare al primo aprile 1913 queste cose si sovrappongono un pochettino sono caotili eccolo qua il Bristol che adesso è al museo Caproni perché appunto Caproni ha ottenuto la licenza dalla Bristol importa due prototipi dalla Gran Bretagna per costruire a campione oggi faremo nemmeno più a disegno ormai li facciamo con sistemi elettronici scarichiamo software ma all'epoca arriva il campione viene smontato ridisegnato misurato e costruito ma il concorso più interessante forse è quello del 25 ottobre per far nascere industrie italiane questa è un'idea di Giulio II che all'epoca è il comandante del battaglio leviatori dice va bene comprare dall'estero roba che sappiamo che funziona eccetera però prima o poi toccherà farlo da soli quindi mettiamo un premio separato chiediamo i prototipi e vedete li chiede in tre versioni motori italiani aerei italiani su licenza straniera aerei italiani anche con motori stranieri in quel gruppo B entrerà la Fratelli Macchi la carrozzeria eccolo qui guardate qui ci sono tante date più di quante vorrei mettere di solito ma è perché le date sono tante lì nell'angolo vedete lo stand della Newport noi stiamo parlando di quell'aereo che vediamo al centro che ci guarda quindi Buzio eccolo qui è lui che apprende da Biego di Costa Bissara uno dei primi piloti unità italiani guarda che l'esercito vuole fare un concorso e l'aereo come dire che va per la maggiore è il Newport vedremo perché tramite l'ingegner Corsi si mette in contatto con Giulio Macchi e Macchi da industriale avete già visto il discorso della Walls e dice prendiamo un brevetto straniero non andiamo a reinventare non rischiamo come fanno tanti pionieri di fare flop perché cerchiamo di inventare e qui quello che io trovo interessantissimo è questo mese così intenso qui vengono fatte cose che forse faremmo fatica a fare oggi con ben altri mezzi di comunicazione provate a immaginarlo nell'epoca del treno e del telegrafo senza sms senza whatsapp senza internet no Morris manda già il colonnello Morris a quella data è il direttore dell'aviazione militare quindi quello che sta sopra il battaglione gli manda le condizioni di concorso in quello stesso periodo apre a Parigi questa mostra di locomozione aerea il l'antenata del salone di Le Bourget fatta in un palazzo in aeroporto Buzio va lì a vedere e probabilmente lì per le vie brevi parla con Newport il primo novembre il battaglione degli aviatori dice a Buzio guarda che abbiamo già degli accordi per Farman e Newport purtroppo noi non conosciamo il contenuto di questi accordi per cui però c'è questa lettera in cui glielo dicono eh però succede qualche cosa dove perché non lo sappiamo ma Giulio Macchi glielo dice dice Buzio torna a Varese perché il governo ha deciso che non vuole accettare offerte straniere un dibattito che sia anche oggi se convenga comprare dagli altri prendere licenze fino a che punto spingersi per fare noi il 13 novembre guardate che sono passati 18 giorni meno di tre settimane Buzio presenta a titolo personale un'offerta ma dicendo che è d'accordo con la fratelli Macchi a questa data la Macchi Newport non esiste ancora quindi ancora la Macchi carrozzeria eh Basen Leon Basen è il rappresentante l'esponente della Newport poi ce lo troveremo in consiglio di amministrazione in Macchi quindi lui di corsa viene evidentemente gli accordi sono andati avanti e vuole vedere con chi si sta imbarcando vuole vedere chi è questo suo nuovo licenziatario viene presentata un'offerta firmata da fratelli Macchi c'è stata tra l'altro una proroga eccetera e vedete anche qui un problema che sicuramente il generale Preziosa e il generale Perone Compagni conoscono bene il dialogo fra industria e forza armata la Macchi ha chiesto una proroga dei tempi di concorso al battaglione aviatori per poter perfezionare gli accordi con la ditta straniera e poter presentare un'offerta completa anche qui c'è sempre questo dialogo che eh si spera sia fruttuoso e nell'interesse di tutti per portare a casa il risultato Buzio come premio di questo lavoro viene assunto come vice direttore tecnico con uno stipendio per l'epoca cospicuo di trecentocinquanti al mese e il cinque per cento eh degli utili arriviamo così al ventinove novembre dove per la prima volta nel verbale del consiglio di amministrazione da fratelli Macchi si parla di una società dedicata quindi di dividere gli aerei dalle carrozze e viene data a Giulio Macchi e Giovanni Prestini la delega per l'aviazione di fatto la Macchi è già nata qui manca di andare dal notaio per formalizzarla ma il passaggio carrozza aerei qui c'è già stato eh attenzione qui è una gran confusione le esclusive non ci sono ma l'esercito per esempio tratta anche con la Wall Street che guarda caso noi sappiamo essere una ditta Macchi purtroppo lì non abbiamo le carte ma è interessante che stanno giocando su due tavoli presentano due offerte questo forse un po' ai limiti della legalità però eh è interessante come ci vogliono entrare. Torniamo alla Newport. Cos'è la Newport? La Newport è una ditta eh francese tra l'altro il nome eh Newport è scritto in maniera strana nei documenti lo troviamo spesso scritto male ma quella è l'ortografia corretta eh è in campo aeronautico dal 1908 come all'epoca accadeva il fondatore è egli stesso pilota perché in quella fase pioneristica bisogna conoscere il mezzo lo vedete lì nella prima foto in alto a destra l'aeroplano vola nel 1910 incomincia a fare primati eccetera eccetera Edouard muori di subentro del fratello Charles che eh come vedete il nome di famiglia è senza la U diverso da quello della ditta e poi la ditta viene comprata da eh Henry Deutsch della North che è un personaggio strano impronunciabile ma è il principale esponente dell'aeroclub di Francia è uno che crea premi sponsorizza iniziative è veramente un personaggio centrale quindi loro vanno a finire in un eh come dire un buone mani ecco vedete che eh quando la società diventa eh di proprietà di Deutsch della North Leon Basel è il direttore commerciale è il tizio che abbiamo visto venire a Varese probabilmente in via San Vito Silvestri a Masnago a vedere le capacità a vedere le strutture a vedere cosa possono fare questi nuovi partner quindi anche la Nupor è in realtà una società giovane e forse anche questo aiuta a trovare presto l'accordo con l'altra e purtroppo Nupor non è un nome fortunato evidentemente perché anche l'altro fratello muore l'Italia li scopre l'Italia ne compra i primi quattro nel 1911 rimanda Vaviano che è uno degli aeroporti più antichi c'è una delle prime scuole di volo in Italia ma soprattutto tre vanno in Libia li vediamo in queste due foto in mezzo alle palme eccetera noi siamo abituati a ehm ricordare sempre il ehm volo di piazza col Bleriot il primo volo di guerra al mondo non ci ricordiamo mai che il secondo fatto da Moizzo è fatto con un Nupor e Nupor risultano nei debriefing nelle relazioni finali sull'esperienza di quella guerra che è importantissima perché anche se gli aeroplani combinano poco dal punto di vista concreto vengono sperimentati in tutte le modalità si pensa persino alla caccia perché si teme che arrivino aeroplani turchi eh si pensa persino al trasporto eh ma eh ovviamente i mezzi non sono adatti quindi questa esperienza bellica porta a capire che il Nupor è un aereo solido molto apprezzato dai piloti quindi la Macchi va a cercare l'aereo migliore eccolo qua torniamo indietro vedete che c'è un cartello molto simile a quello che vediamo prima della carrozza si chiama ancora società anonima fratelli Macchi non è la Nuport Macchi ma guardate buffa proprio perché sulla fusoliera dell'aereo ci sono già le lettere NM Nuport Macchi quindi qui siamo prima che si vada dal notaio il primo maggio 1913 ma di fatto il lancio del prodotto il lancio del marchio il lancio commerciale è già avvenuto lo decidono presto a fine novembre creano all'interno delle officine fratelli Macchi nella carrozzeria la un reparto aviazione e hanno tempi stretti 80 giorni è vero che questi sono diciamo una complessità di ultra leggero di oggi però partire da zero senza averne mai fatti e farne uno completo volante in 80 giorni è una bella sfida si nota come abbiamo detto la settimana scorsa le linee aeree e i binari no segno dell'attività di costruzione di tram che veniva fatta prima già al 31 dicembre del 12 10 persone che lavorano per gli aeroplani notate anche che c'è un accordo con Wallsit per l'equa ripartizione del lavoro vi ricorderete che la Wallsit aveva presentato una sua offerta quindi viene il dubbio che anche lì ci sia stata una composizione diciamo esterna un accordo per evitare di pestarsi i piedi fra due società comunque partecipate dalla famiglia Macchi e c'è la prima divisione dei compiti la Nuport Macchi è responsabile tecnica del progetto mentre la costruzione e esecuzione la fanno i fratelli Macchi non sappiamo quando quest'affare ha volato io non sono riuscito a trovarlo non è riportato potrebbe essere nel marzo del 13 potrebbe essere stato il pilota francese Gobè potrebbe essere stata Malpensa ma non lo sappiamo il concorso militare non si ricorda mai abbastanza come in questo paese di fatto sia la forza armata che all'epoca era esercito oggi era di militare a fare la politica industriale del settore anche delle volte impropriamente supplendo a cose che potrebbero essere fatte diciamo con dei piani strategici del paese nazionali ma in realtà questo incarico spesso viene assunto con molta responsabilità dalla forza armata no bene il concorso militare che aveva voluto due per stimolare la nascita eccetera eccetera prevede cosa un premio di 20.000 lire più l'acquisto di sette aerei bisogna portare gli aeroplani a Torino prima del primo aprile perché nell'arco di quasi un mese e mezzo verranno svolte le prove concorsuali queste date ci confermano che Newport Macchi venga costituita la ditta 32 iscritti ne arrivano 23 quindi due terzi ne vengono ammessi 16 il regolamento era piuttosto rigido qualcuno dice anche troppo ma vengono fatti fuori una serie di mezzi che non arrivano in tempo sono diciamo non compliant in vari aspetti la macchi presenta due aeroplani col motore nonda 100 cavalli e notare che appunto i piloti sono francesi questo ci dà anche l'idea che ritardo non è soltanto tecnologico soltanto della costruzione dei velivoli ma di tutto quello che c'è attorno perché già allora non bastava costruire bisognava anche saper usare eccetera e questo patrimonio questo know how al momento la ditta non ce l'ha e la wall seat presenta i suoi due monoplani Newport con motori diversi l'ognoma 80 e il luct da 100 cavalli luct è un motore interessante italiano ma ne parliamo un'altra volta e la wall seat è anche come dire che presenta il famoso aerotorpedo Iacchia di cui accennavamo prima nessuno di questi arriva in finale lasciamo perdere la storia del concorso che è molto complicato molto complicata eccetera eccetera ma insomma in finale arrivano i due monoplani Bobba uno dei quali vincerà il SAML amfiplano e il SIA Italia all'italiana maniera però Bobba che è il vincitore non verrà mai ordinato ci saranno delle cause che durano molti anni nel 1917 l'aereo ancora sotto sequestro in un hangar a mirafiori lì veramente varrebbe la pena di capire cosa è successo ma evidentemente qualcosa è successo non lo sappiamo ma è interessante questo spaccato perché guarda ancora oggi le stesse cose si ripetono assolutamente in qualche hangar c'è ancora qualche velivolo lì in attesa scusami per l'interruzione no no comandante grazie quando uno vede la storia vede che cambiano le forme ma la sostanza spesso si ripete la macchia dice guarda non abbiamo vinto a causa dei motori in effetti i motori all'epoca erano poco affidabili un po' per caratteristiche di progetto un po' per la costruzione adesso hanno rimesso in produzione per scopi storici alcuni di questi motori rotativi e fatti con le tecnologie moderne cioè tolleranze molto strette lavorazioni precise eccetera pare che vadano benissimo rispetto a quelli di una volta bene intanto in parallelo al concorso vedete che i soci deliberano la nascita della newport macchi quindi prima il cda della wall sit poi quello della macchi e i francesi a questo punto quando sono sicuri che i soci italiani ci mettono i soldi e sono della partita gli ultimi a deliberare sono i francesi uno schema abbastanza classico ovviamente gli accordi prevedevano questo ci mandate le delibere poi noi velocemente procediamo quindi il primo maggio 1913 tutti dal notaio quelle l'atto costitutivo sono le firme e vediamo chi c'è dentro la macchi che il socio maggiore la wall sit appunto che è per un pezzo della macchi e la società newport e possiamo anche vedere come sono poi divise le quote all'interno della famiglia macchi questo è abbastanza interessante no perché ci permette di leggere anche chi ci crede e chi non ci crede nei fratelli macchi molti non ci credono quindi e questo dove succede questo atto è conservato a como perché non tutti ce lo ricordiamo ma la provincia di varese non esiste ancora principe varese nasce nel 1927 accorpando la parte sud della provincia di como e la parte nord della provincia di milano l'archivio notarile competente è quello di como quindi l'atto sta lì ed è interessante appunto vedere i nomi e le stranze questo è un pezzo di storia sociale di varese che è ben descritto nel libro di macchione ma che oggi non abbiamo tempo perché sono già un po lungo credo io con i tempi sì bene cosa succedo il primo maggio 1913 arrivano altre commesse per seroplani io sospetto che siano quelli che originariamente erano immaginati per la wall sit vediamo che giulio macchi emerge sempre più come la persona di riferimento della ditta buzio vice direttore tecnico fino al 1917 quello che recluta tonini poi tornerà alle auto e uscirà la fratelli macchi quindi la carrozzeria ha ancora dentro giulio macchi come vicepresidente poi si comprerà addirittura automobili anzaldo eccetera eccetera e farà nel 15 si separano definitivamente aerei e carrozze viene tirato sul muro viene diviso lo stabilimento eccetera eccetera si separano prima sono separati i conti poi si separano le aziende ho messo lì famiglio Bertoni perché è forse il personaggio oggi più noto della carrozzeria macchi ma anche perché un po come dire per orgoglio di bandiera abbiamo la collezione Bertoni in esposizione a volandia lui lo conosciamo vedete che sta facendo una citron qualcuno riconosce probabilmente il freggio sul redatore lui è il padre della due cavalli della ds eccetera eccetera è uno che lavora alla carrozzeria fratelli macchi ma poi emigrerà a parigi eccetera cosa succede alla carrozzeria intanto vi vedete il nome questa ci vuole un po poiettatoria ma di quella archivio fotografico finito su ebay ho scoperto che la carrozzeria fratelli macchi aveva una linea produttiva un po originale che faceva carri funebri dove però si vede se volete una capacità artistica anche di lavorazione piuttosto elevata una manualità notevole mi rendo conto che l'ambiente avviatore non bisogna far vedere queste cose quindi andiamo avanti continua a fare ecco qua i pullman che si ricorda l'amico azimonti secondo l'amico gianni cattaneo che abbiamo ricordato la settimana scorsa che non c'è più ma che era diciamo un grande cultore di storia macchi e di storie della macchi i due rami della famiglia macchi quelli degli aerei e quelle delle carrozzerie diciamo erano in amichevole rivalità e con gli alti e bassi dei rispettivi business si rinfacciavano hai visto che ho avuto ragione io a fare pullman hai visto che ho avuto ragione io a fare aeroplani sono andati avanti insomma un po in questo gioco anche la macchi carrozzeria viene bombardata il terribile 30 aprile del 44 quando vennero distrutti i capannoni aeronautici è interessante nel 47 la guida della carrozzeria viene assunta da luciana macchi quindi un caso abbastanza inconsueto per l'epoca di donna imprenditrice anche se una volta magari aveva modo di parlarne ma in aeronautica forse c'è il caso più importante in italia di quegli anni che è giuseppina gustavano i giovanni augusta che manderà avanti l'azienda per molti anni finché poi i figli non non prenderanno il timone poi passa la famiglia sartorelli quindi il marito della luciana macchia eccetera poi passerà avete visto che vi ricorderete quella slide all'inizio era proprio contigua alla macchia aeronautica poi va a gazzada poi passa un altro gruppo è una delle aziende che vengono travolte nei primi anni 90 e finiscono mentre invece ancora in attività la concessionaria di auto buzio che è proprio del carlo felice buzio che avete visto è se non il padre è quanto meno la levatrice quanto meno quello che ha fatto nascere questo bambino e quindi dei pullman e dei mezzi carrozzati macchi ecco questa l'ultima foto è vecchia però ce l'ho messa perché c'era un cartello numerico che nel 2009 da quel piccolo seme del 1913 si era arrivati a 7000 aeroplani nella stessa sequenza numerica di quel cartello col numero 1 adesso credo che siamo a 7.002 7.003 che hanno dei numeri di costruzione ancora macchi e la ultima volta che ho guardato nonostante ormai purtroppo il glorioso nome macchi sia completamente stato cancellato da leonardo mi pare che ancora gli aeroplani che escono da venegono abbiano la stessa sequenza numerica di costruzione quindi con questo io concludo questa galoppata sulla macchi come ha iniziato a fare aeroplani è un po' anche la fine della carrozzeria macchi di quello lì adesso tolgo la condivisione e se ci sono domande chiacchiere eccetera benvengano mi fa molto piacere grazie della pazienza grazie soprattutto da leggi grazie da leggi che ci ha ricordato soprattutto che diventiamo la provincia con le ali dal 27 non sempre la provincia con le ali siamo stati e solo dal 1927 anzi io che sono un bustocco dirò che con uno scippo a busto arsizio che dove pretendeva busto diventare provincia nel 27 diventa varese provincia con le ali e poi grazie ancora per quelle magnifiche fotografie di autobus che mi ha fatto vedere che ho visto addirittura un bus in macchi vi dico era un autobus bellissimo una cosa incredibile per quegli anni la il bus in la bus in era la parte autobus della man della dieselman tedesca infatti la macchi costruiva successi man tedeschi adesso rimaniamo in attesa delle prime domande che la delia se vorrà girerà subito al nostro al nostro professore a leggi pronti via delia se sei pronta io sono pronta vediamo se arrivano delle domande comunque c'è ricordato una provincia di varese che mi ero proprio scordato io una provincia di varese che viene da lontano sia come le carrozze sia e che nasce nel mio ciascuno è tutto chiaro gregoli c'è stato bravissimo nessuno ti fa domande beh anche perché gli argomenti non è solo ai meno molto molto io stesso che sono un paresino non li conoscevo tutti mi sono stati i passati per la prima volta per cui immagino che per gli altri era addirittura ancora meno per la prima volta che sentivano questa storia che viene da lontano visto che siete qui visto che siete qui e ce l'abbiamo lì a portata di mano e visto che io lo so che non è fra i temi che tratterà la settimana dopo la settimana prossima chiedo al paolo barriale di raccontarci due parole su il fatto che persino francesco baracca è stato alla macchi ci sei paolo riusciamo a fargli attivare il microfono se ci sente solo dico io eccomi qui se mi sentite ti sentiamo fatti vedere anche e ho smontato la telecamera perché le mie capacità tecniche sono estremamente scarse quindi tentavo di fare una cosa e ci ho messo troppo tempo per ripristinarla per la conferenza prossima dice un po di baracca la macchi dunque baracca in quel periodo prestava servizio alla valpensa come pilota di newport macchi e ciclicamente veniva inviato in ditta come ufficiale di sorveglianza baracca fece anche parte del personale dell'esercito incaricato dei controlli al concorso per l'aereo che prima tu hai ricordato la cosa divertente che baracca in quel periodo appunto stava alla malpensa baracca oltre a essere un grande appassionato come è facile ricordare di aviazione ma aveva anche molti interessi non ultima la vita sociale e non è che apprezzasse moltissimo in quel periodo fatto di dover passare tempo alla malpensa o alla macchina perché non è lontano da milano però appunto baracca appena tornato diciamo dalla francia dove prese il brevetto fece parte di squadriglie equipaggiate con il macchino monoplano e quindi c'è un legame tra baracca e la macchi antecedente alla grande guerra ci sono tra l'altro nelle lettere che il museo baracca sta per pubblicare diversi indicazioni e diverse descrizioni relative sia al concorso sia appunto a questi anni in cui il pilota diciamo ancora non era famoso ma volava su su queste macchine grazie grazie parola nella chiacchierata io ho visto che c'è anche giulio valdonio che ovviamente un'altra colonna portante della macchi e perché se per caso qualcuno di questi personaggi per esempio il carlo felice buzio lui l'avesse conosciuto perché sicuramente avevo parlato i personaggi diciamo della generazione successiva della macchi che erano lì ancora in ditta che quando lui è entrato primi anni sessanta tenevano vive ricordi di esperienze di un altro mondo ma ecologicamente molto vicine proprio per carlo felice buzio morto nel 77 sicuramente aveva tentato di contattarlo il gianni cattaneo giulio tu per caso l'hai conosciuto se riesco a dargli voce giulio cioè no no è sparito è sparito se posso ecco ti Gianni cattaneo io siamo andati da buzio abbiamo chiacchierato a lungo ci hanno stato un sacco di fotografie del rebus ancora appunto quando era in attività era pieno di naturalmente stando a sentire lui ha fatto tutto lui comunque era un uomo dinamico molto gamma ma aveva fatto tutto lui dell'aeroplano o di cosa dell'aeroplano di personare i macchi a entrare nel business a concordare con la new corp che lui parlava in francese e gli altri no insomma ha fatto ha fatto un po tutto lui probabilmente senza dubbio è stato un propulsore importante e poi si è messo a vendere automobili ha continuato a fare a correre correva anche a cavallo ne ha fatti tutti i colori era un uomo simpatico dinamico ancora ancora vivace quando l'abbiamo incontrato noi e stava vendeva le mini mi ricordo infatti Gianni ha comprato una mini da lui grazie la testimonianza che è importante perché oggi siamo costretti a lavorare per lo più sulle carte ma ecco i testimoni anche soltanto come indicazione tendeva a dire che aveva fatto tutto lui un po traspare quel mese frenetico tra ottobre e novembre del 12 si vede bene il ruolo dinamico propositivo di buzio è interessante vedere come lo rivendichi forse farei santo un ultimo commento e poi lasciamo se c'è qualche altra domanda che questa qui cioè il fatto che come si può dire il guzio nel 21 esce dalla ditta perché è importante questo perché dopo la prima guerra mondiale il settore aeronautico che è cresciuto a dismisura per la guerra si contrae rimangono solo quelli che ci credono quelli che ci credono sono per esempio giulio macchi sono per esempio gianni caproni ma quelli che erano le numerosissime ditte numerosissimi imprenditori che erano entrati quando c'era questa enorme domanda militare escono quindi evidentemente buzio non credeva più nel futuro diciamo del business aeronautico preferisce portare le sue fish in cassa e passare a una cosa diciamo di più sicuro affidamento come l'automobile quindi è interessante questa valutazione diversa tra coloro che hanno partecipato alla fondazione macchi e ci riconferma questa grande fiducia quasi fede direi che aveva invece giulio macchi anche in un momento di vacche particolarmente magre ecco grazie giulio c'è qualche altra domanda che gregorio pasquale preziosa cortesemente poi dirci qualche parola in più sui motori quello che vedo i motori prevalentemente vengono dall'estero pochi poi sopravvivono nel tempo in italia come costruttori di motori è stata una delle pecche rimane una delle pecche italiane sui motori diciamo aeronautici dove c'è c'è un buco ancora oggi sì in effetti comandante hai messo come dire il dito nella piaga cioè mentre sulla parte di costruzione di aeromobili ben o male quel ritardo si colma quello dei motori che era già evidente allora abbiamo stentato a colmarlo c'è un problema di tecnologie all'inizio però anche quando viene diciamo risolto manca poi una visione una capacità il principale costruttore che è fiat inizia di fatto il motore a 10 copiando un motore mercedes abbiamo qui tutta una serie di motori di scuola mercedes fatti anche bene la 12 è un motore di grande successo che viene esportato in molti paesi ma manca poi la capacità di andare oltre cioè quando si arriva a sfruttare fino in fondo le opportunità di una certa tecnologia non c'è la capacità di saltare su quella successiva giulio valdonio mette bene risalto nel suo bel libro sui caccia italiani della seconda guerra mondiale in fondo dice che il fiat a 74 del macchie 200 del 42 è un buon motore affidabile eccetera però la fiat non ha le capacità per portarlo da 800 cavalli ai 1200 1400 che ormai erano necessari e quindi ci andiamo a prendere un motore tedesco e anche adesso insomma siamo molto bravi ma specializzati in alcune parti abbiamo avio che leader nelle gearbox nelle cose ma la capacità di fare un motore da zero italiano eccetera è ancora una nota dolente forse l'unica che ci manca per poter fare prodotti diciamo più pesanti dell'aria a 360 gradi alla fine il motore lo dobbiamo sempre andare a comprare da qualcuno poi magari lo costruiamo su licenza però svilupparne uno tutto per noi rimane 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 un punto di difficoltà diciamo ecco la domanda che permette di ricordare questo forse non a tutti sempre noto posso intervenire prego in realtà nella prima gara mondiale un sacco di dittarelli piemontesi fecero su licenza i motori rotativi che erano motori sostanzialmente senza futuro alla fine della guerra già si era visto che era destinato l'estinzione e uscirono rapidamente dal mercato rimasero solo le società automobilistiche la fiat l'alfa romeo risotto a praschini l'ansaldo in realtà cercò di inserirsi perché faceva anche le automobili eccetera ma poi alla fine fu assorbita dalla fiat sappiamo che ci fu tutta una storia e devo dire che forse anche grazie a zerbi a cattaneo dei progettisti di dubbio valore i nostri motori raffreddati a liquido furono abbastanza buone anzi addirittura c'è un un americano che ha scritto un ottimo libro di che sostiene che l'isotto a fraschini 750 cavalli forse senza dubbio il miglior motore del mondo dell'architettura però a cilindri separati cioè noi perdemmo per ragioni sostanzialmente tecnologiche il salto dal motore a cilindri separati al motore a monoblocco perché non eravamo in grado di fare delle grosse fusioni non avevamo investimenti anche società col col braccio corto e da lì in poi si fermò la capacità italiana che indubbiamente però negli anni 20 aveva fatto dei prodotti molto validi prova ne sia che valvo fece la trasvolata atlantica con 24 aeroplani senza cambiare neanche un motore grazie giuro che di questo intervento che è precisa e conferma sostanzialmente questa nostra difficoltà una ottima qualità realizzativa costruttiva ma appunto per motivi anche industriali di mancati investimenti la incapacità di saltare cavallo e quando è il momento e quindi questi salti tecnologici che poi l'equivalente di quello che succede negli aeroplani quando si passa dalle strutture a traliccio a quelle a guscio anche lì perdiamo un treno fondamentalmente ci arriviamo ci arriviamo in ritardo ci arriviamo diciamo quando non possiamo più cambiare il corso delle cose ecco grazie ancora e gregory solo una cosa visto che c'era un visitatore che un un ascoltatore che faceva una richiesta sulle sulla produzione di fotociclette magari un senno velocissimo sulla produzione delle moto delle armati le harley devinson ma questa la farei dire direttamente a giulio valdonio che c'era io posso fare un quadro cioè che in quegli anni la macchi diversifica abbastanza dopo dopo guerra è stato all'inizio molto difficile e la società diversifica quindi entra nelle motociclette e entra nei motocarri nei motocarri che li ce li dimentichiamo i motocarri macchi ma progettati interamente ad ingegner bazzocchi compreso il motore e sebbè mi ricordo il primo lavoro dell'ingegner valdonio ne ho assunto fu di cos'è che ti hanno fatto progettare giù un cilindro l'albero vomito perché voleva trasformarlo in diesel voleva trasformare il motore in diesel e naturalmente il diesel ha degli sforzi molto maggiori e quindi mi fece fare una verifica e un confronto con l'albero vomiti del fiat 614 che era un camioncino che faceva la fiat ma poi alla fine la cosa rimane rimase un po lì poi i motocari furono passati all'ingegner negri e se ne perse un po il controllo è interessante proprio che dici perché foresio si rese conto che la società aveva bisogno di una un appoggio ulteriore e fece due accordi uno con la lochid che prese il 25 per cento della società e apportò tra l'altro la licenza del al 60 che doveva essere nelle previsioni si doveva arrivare a costruirlo al giorno cosa che non si fece poi mai la lochid poi dopo lo scaldolo lochid scappò rivendendo frettolosamente le sue azioni a foresio che se le riprese ma ci fu una notevole io andai con bazzocchi alla locchi da vedere alcune cose si poteva lavorare insieme a un executive jet l'altro l'altra gamba era da harley davidson che anche lei comprò no si fu fondata una società compartecipata che utilizzò gli stabilimenti della schirana e che poi seguì tutto nel suo iter interessante per concludere dire che a un certo punto il mercato stava abbastanza ampliandosi e la gli americani proposero a foresio di raddoppiare lo stabilimento foresio non se la sentì vendette tutta la harley davidson agli americani che un anno dopo la chiusero quindi aveva visto lungo foresio giusto foresio rendo lo spunto per dichiarare che la conferenza di oggi veramente al con interventi incredibili che oltre che fantastici di una rilevanza veramente fuori dal normale per cui eh oggi non solo devo ringraziare il professore alleggi ma dovrò ringraziare il generale preziosa il dottor variale l'ingegner valdonio e per chi non lo conoscesse l'ingegner valdonio è stato un direttore della della ermati eh non parliamo del generale preziosa e di variale che tutti conoscono ringrazio soprattutto il pubblico che ho visto ha mostrato parecchi contatti per cui la la le nostre mini conferenze che sono sempre più conferenze e molto mini eh ringrazio il professore alleggi che è veramente stato fantastico che ha parlato della provincia di Varese in un modo dove anche un varecino come me non l'aveva mai sentita